Posso avere la vostra attenzione, per favore? Ok, sapete quando vostro figlio ha vinto una bustina col pesce rosso a scuola, voi non lo volevate dentro casa e l'avete buttato nel gabinetto? Beh, è quello che è successo. Sto diventando vecchio per queste cose. Posso immaginare come ti senti tu? Ti ho promesso solo i segreti dell'universo. Ci sono segreti di cui l'universo non è al corrente. K! K! Non esiste nessun K. È morto da più di 40 anni. Cosa? In qualche modo la storia è stata riscritta. Deve esserci un motivo e deve ruotare intorno a K. Devi rispedirmi nel 1969. Tieni, prendi questo. In pratica non devi fare altro che un bel salto. Io non faccio un bel salto da questo palazzo. Un salto nel tempo. Hai 24 ore, dopodiché non torni più indietro. K? Come sei il mio nome? Sono un man in black ma vengo dal futuro. Siamo colleghi. Ok, uomo del futuro. Dove si va? Prima devi ridarmi la mia arma. No, 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 no. L'arma spaziale. Vi avete nel futuro? Ecco, ci mancava solo questo. Siamo a corto di tempo. Siamo a corto di indizi. E c'è un'invasione in arrivo, quindi dobbiamo andare via subito, adesso. D'accordo. Ehi, ma scusa, quanti anni hai? 29. Ah, te li sei fatti tutti contro mano. Ciao. Sì. Quoi? Come sei. Quaisvadri?